iniziamo proprio così davanti a un bellissimo menù comunque scherzo bellatura ragazzi oggi siamo su death park 2 non ho portato l'uno però oggi inizieremo col 2 ragazzi mi dispiace tanto perchè comunque ho avuto molti problemi nel fare video non so cosa mi è successo perchè avevo caricato un video di fuochi d'artificio solo che o me l'hanno tolto o per altre cose perchè non l'ho trovato più comunque ragazzi praticamente morale della favola è che sono qua dentro e praticamente mia sorella sta urlando mi sono appena svegliato dal letto mia sorella urla e devo andare nella camera sua ho aperto già 30.000 stanze ma come vedete probabilmente la porta è bloccata probabilmente ma che c'è quanto cacchio urla beh ho visto anche qua Charlie prenditi cura di Lily che è la mia sorella pazza che sta urlando sono stato convocato in ospedale ok vai in ospedale non ti preoccupare andrà tutto bene baci mamma ok poi scappa la finestra vabbè non posso è normale ma anche questo cioè raga come farei? 3 4? no mi serve un codice il problema è dove lo trovo il codice qui non c'è niente proviamo ad andare qua vediamo se c'è un codice proviamo proviamo ad andare qua no found no niente penso tutti nickname di Fortnite vabbè qui c'è un codice no ti pareva e raga non sto qui a dirmi niente perché già ho fatto un altro video in cui cercavo di trovare quel codice è durato 7 minuti quindi è meglio un attimo andare a cercare il tutorial ci vediamo tra pochissimo anzi un istante ok raga o so io scemo è il gioco che non me lo fa capire probabile che io sia scemo avete non mai notato questa cosa? io già l'avevo vista però non sapevo l'esiste già l'avevo vista però non pensavo 12 11 89 è il codice di questa cassaforte quindi ok apriamo no grazie non mi servono armi però utile raga se volete potete cioè possiamo comprare delle armi comunque raga c'è anche tipo la modalità Pennywise io sono Pennywise cioè per esempio dopo aver completato il gioco può essere anche Pennywise apposta di quel tizio là con tre occhi dunque ecco qua una bella pistoletta e spacchiamo la serratura no subito no grazie subito sto palloncino oh cosa c'è? tua madre non tornerà mai più con l'aiuto di palloncino che si può muoverti tra il mondo reale e il mondo dei sogni non puoi portare le armi con te da un mondo all'altro ok non tornerà mai più ah 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 vediamo se con i palloncini a questo punto possiamo andare qua nel sotto sopra poi c'è un'altra po' oh si sveglierà mai beh Bah C'è così a caso Mi fotti mia sorella Che c'è Va bene qua Bah Vabbè Andiamo un'altra volta a tornare Normale Sperando che quel Bambino non mi uccida Cioè sempre voglio dire Pennywise no Quel tizio C'è ancora mia sorella Oh no Ah si Ehi Vasca a sbogliarla Lily aspetta sta cercando un aiuto Ti sparo Guarda qua Oddio quanto allagga Allaggato un botto Di recente sono andato con mia madre Charlie Al parco dei divertimenti Abbiamo visto un terribile pagliaccio E' stato un orrore Da allora l'ho sognato di ogni notte Anche Charlie lo sogno Beh Eeeh Se l'ho visto Anch'io penso Che non sia falso Adesso Cosa devo fare Posso scappare dalla finestra No me ne posso andare però Me ne posso andare Ma quindi Era questo il giro Che potevo fare Niente Ok Quindi adesso non potrei uscire Aspettate però Ecco Dopo Esci di casa Per cercare Aiuto per lì Allora Io qui Già ho visto alcuni video Come quello di Salvo Pimpost Che vi consiglio di seguire E' uno youtuber Fantastico Non un fantastico Fantasticissimo E Andatela a seguirli Perché è molto bravo Comunque raga Praticamente ho visto da lui Che Appunto In un suo episodio Faceva vedere Il siero per lì Quindi noi dovremmo Poi cercare Adesso Praticamente Non so Oppure in un prossimo video Dobbiamo cercare Il siero per lì Adesso io mi avventuro Un po' per la città Poi andremo A trovare il siero per lì Abbiamo una torcia Molto buona Allora aspetta No aspetta Mi pare che si fa così No Vabbè Usciamo Vabbè Porta chiusa però Che cos'è E te pareva Se pareva Grazie o no Vediamo un attimo qua Vabbè Non ci serve Palloncina Vieni qua Ok vediamo qua Se è cambiato qualcosa No Ma io vedo tutto rosso Ho un salto Bello Bella notizia Bellissima Ecco dove Ok però Una pistola Non ho paura Di usare Questa appena Ok Penso che mio padre Tenga le chiavi In riserva Nella sua cassaforte Ora Vabbè Vabbè Io controllo Un attimo giù Poi andiamo a vedere Se è la stessa cassaforte Di prima Vabbè Ormai Poi andiamo a vedere Adesso è ancora qua Brava Magari Chi ha chiuso Le porte Cioè Tu Penso Non ti potresti Addormentare Quindi Vabbè Ok raga Non è questa cassaforte Ma un'altra Ok Andiamo a trovare Teodicamente Si dovrebbe trovare Per forza Dal piano giù Se no Si trova qua Non si può trovare Nessuna parte Qua non c'è Ehm Devevo trovare Se andrà Chiusa Non c'è Sì Niente Non si può volere Va benissimo Allora Adesso Possiamo Solo Andiamo qua Sempre nel banner Dobbiamo sempre Esplorare Raga Come già Stavo per dire Mi conviene Solo Usare Il palloncino Ecco qua Dio Non è un'altra Stanza Ok Questa è Chiusa Wow Eh no Però Ah ok Ho sempre Paolo Perché sto pure In un altro modo Quindi C'è il pagliaccio C'è bello Proprio Viaggiare qua Nella cantina Dopo che Vi stungla Grazie Molte munizioni Molte munizioni Uno Vabbè Non può Permetterne a scala Questa c'è Chiave Esagonale Medikit Ok Ok va benissimo Se vedete In alto A destra Abbiamo Medikit Ok Vabbè Uno Vabbè Aspetta Questo cassetto Si apre Si sale Da un'altra parte Qua Ho sbaglio Eh si Si sale Da un'altra parte Mamma mia Che casino Oh Grazie Vabbè E' sparita Eh Se tre Aspetta Trova un modo Per la gente Per aprire la cassa Questa cosa Nell'ufficio Di tuo padre Allora Prima prendiamo Munizioni Per Saranno Tre No Due Vabbè Oh Un'altra Uno Abbo Tre Mo tre Vabbè Allora Qua in questo modo Adesso non ho trovato Niente Quindi Vediamo Se riusciamo Con Un altro Mondo Eccola qua Infatti La cassaforte Generali Kelly Ti informo Che non ho più Intenzione Di lavorare A progetto Nei Medici Due puntazioni Nella tua base Militare Mi ha ringraziato Mi ha utilizzato Mi ha ingannato E utilizzato I miei sviluppi Il numero Completamente diverso Da quello che eravamo Accordato Dopo l'ultimo Esperimento Mi fissa Non soffrendo Sei uscito Tu dal bunker Anche solo Per un minuto E ci hai guardato Cosa stava succedendo In città Andremo tutti In tribunale Se riuscimmo Se riuscimmo A sopravvivere Ingegnere Capo Non ho letto Allora Raga Quindi Da quello Comito Comunque Abbiamo trovato Una chiave Adesso Non mi dica Ancora Vabbè Se era ancora Questo Veramente Cioè Io Vabbè Gioco Un po' Succino Ma Dei una pistola Ma spacca Una finestra Ho visto No Se abbiamo Un gioco Intanto Ah Ah no Vabbè Mo' ho controllato C'è Sceglie Fammi fare Che c'erano Altri posti Ecco Eh ma Te pare Se era Daddy Ah ma Serebbe Questa La porta Ma è inutile Allora Ok Eh Posso Scontinuare Sì Scontinuare Forse sì Perché Comunque Io prima Ero in un altro Mundo No Devo Per forza Esplodiamo Un attimo Questa zona Va bene Ragazzi Io adesso Concluderei Perché comunque Il video Sta durando Un po' Troppo Spero che Vi sia Piaciuto Quindi Se volete Altri video Di questo Genere Horror Oppure Continuare Questo gioco Come sempre Nei commenti Scrivete Il gioco Che dovrei portare O che dovrei Continuare Come Death Park 2 Mi raccomando Ragazzi Lasciate un bel like E iscrivetevi al canale Ci vediamo A un prossimo video Ciao